Allora, Petrucci, versione fiorata, metti la capoccia più qua così copri la luce, che serve a qualche cosa a me queste basette, fresco di mondiale, moto nuova definita da alcuni agricola per l'elettronica unica, insomma questa GP che avevi, il mio 14 non era poi così male alla fine? No, no, è che io alla fine la GP15 è sicuramente un passo in avanti, ma c'è tanto da fare perché è tutto nuovo, è nuova l'elettronica, sono nuove le gomme, è nuova la moto per me, quindi c'è tanto, siamo io, come ho detto, siamo solo all'inizio della fase di sviluppo della moto, ecco, poi la GP15 ha dimostrato di andare forte, solo che l'anno prossimo ci saranno gomme elettroniche che saranno uguali per tutti, però c'è da metterse a posto ognuno per conto suo e avendoci lavorato solo un giorno è complicato, è tutto il lavoro da fare, ecco. Questa invece viene sviluppata? Questa no, riprende il tema del casco, riprende il tema del casco, ormai sei un'uomo marca, un'uomo immagine, vendo una cosa che non è mia in realtà, ma non lo vende a nessuno, vendo dei fiori, vendi dei fiori, finiremo tutti così, poliziotto e fioraio, per il resto queste cose, noi facciamo un'intervista per cui nel frattempo, siamo registrando, scusa, da partito il rumore dei tasti sul computer mentre tu vendi le magliette, grazie, sì, va bene, product placement, no, va bene, tranquillo, noi continuiamo, non fai niente, tanto che sono l'intervista di Visterembra, le persone fa, cioè, donne nude mai, ascolta, fai serio, poi invece a Valencia hai sfollato, eh, a Valencia si è discusso parecchio, ho visto anche tra l'altro che Orge, non è che mi ha un po' accusato, però ho detto che comunque il biscotto c'è stato tra piloti italiani, comunque io che potevo fare? Valentino andava quasi un secondo più forte di me, cioè, fare l'eroe, tenerlo dietro due giri, gli avrei dato solo fastidio e poi, sinceramente, aiuto, se devo dare proprio una mano, cioè, aiuto chi mi aiuta in pista e fuori, cioè, Valentino comunque mi fa allenare con lui, eh, quando lo trovo in pista mi fa sempre bene o male star dietro, imparare le traiettorie, le frenate, tutto quanto, quindi, cioè, a me perlomeno con Orge c'è un altro rapporto, ma premesso che l'avrei fatto anche con lui, perché nel senso che sta giocando un mondiale, io che devo fare, cioè, l'eroe... È venuto un po' più in grossa di così, nel senso che ti è uscita la marcia, però... Sì, sì, lì per lì, lì per lì, mi sono girato, lì il rettino è cortissimo, si fa in terza, si fa terza prima, io per quando l'ho visto dietro mi sono rigirato, ho fatto la curva in seconda invece che in prima, sono andato un po' largo. È una cosetta, è il P2! Il fatto è che la moto è talmente a posto che se fai la curva in prima la moto si ferma, se la fai in seconda, no, quindi era molto, molto, diciamo, la differenza è molto sottile, quindi... Comunque su questo tema qui degli scazzi pre e post durante gara ha fatto una riunione indorna, no, giusto per risolvere un po' di... Sì, no, e faremo una riunione dove decideremo cosa è meglio per noi per quanto riguarda il comportamento in pista, cioè analizzeremo un po' di casi e alla fine si farà quello che dicono i piloti, non quello che è giusto per la gente, per i media, per i tifosi, analizzeremo dei casi, ad esempio 100 casi e voteremo questo, questo, sì, non ci sono stati 100 casi, credo. Vabbè, quelli della moto 3, sì, quelli ogni 3 minuti. Sì, questo, diremo, questo è da penalizzare, questo secondo me ha fatto questo, cioè ci faranno scegliere veramente a noi, questo secondo me è una... è stata un'idea della... della race direction di Carmelo, secondo me è giustissima questa idea, cioè comunque ci faranno... è veramente da chi sta in pista, ti rendi conto, sì, quello lì lo volevo buttar fuori, quello lì no, quello lì mi ha scappato una maccia, l'ho toccato e siamo caduti. Ah, voglio vedere uno che dice sì, quello lì lo volevo buttar fuori, cioè ciao. Senti, da te il mercato non ti frega niente, non ti tocca minimamente, cioè un po', in qualche maniera... Ma il mercato, comunque già, ci sono già tutti i contratti per l'anno prossimo, io avevo un'opzione con Pramac per l'anno prossimo, l'abbiamo rinnovata, quindi avrò un'opzione anche per il 2017, Pramac e Ducati mi hanno premiato perché avrò un contratto direttamente con la Ducati, però prima del 2017, comunque la Ducati ha fatto valere tutto quello che mi ha promesso a inizio 2015, cioè mi ha detto in basso ai risultati ti daremo aggiornamenti per la moto. Cioè non è rossa la moto però... No, no, però come ho detto per esempio a livello di elettronica io forse ero molto più evoluto perché c'erano tante cose da provare che provavo io perché il team ufficiale giustamente ha più necessità di fare risultato che di provare cose, quindi le provavano da me, io ero contento perché magari in quel qualcosa trovavi qualcosa di meglio e io avevo una bella moto. Ma allo prossimo provavi quella con la lettone dietro, no? Sì, no, al momento ho la GP15 di Pirro, comunque anche quella era una moto laboratorio e io l'ho ricevuta appena finita la gara di Valencia e faremo i test con quella, poi man mano vedremo, credo che comunque sia negli interessi ai Ducati quello di mandar forte il più moto possibile, comunque abbiamo quattro moto, due ufficiali e due satellite molto competitive, ci siamo oltre Dovizioso e Iannone siamo io in Reddy che comunque sia entrambi giovani, entrambi che hanno voglia di fare e quindi... E poi c'è quell'altro che torna... Allora, il scenario fantascientico, questo viene, farà delle volcari, fa Qatar, Moteghi, Uccello, questo che va, se viene in Qatar e dopo crea di... Io credo che... io in Qatar credo che non ci sia proprio il tempo tecnico, però lo faranno, credo che lo faranno provare durante l'anno e arriva in Australia a metà ottobre molto preparato e lì in Australia io ci avevo scritto pure un tweet la prima volta che l'avevo visto, l'unico anno che ci ho corso insieme con Stoner, che le fasi della vita dovrebbero essere nasci, cresci, vedi un giro di Stoner a Film Island, ti riproduci e muori. Ah, ti riproduci anche? Eh, dopo che hai visto il giro di Stoner. Cioè, ma solo a scopo riproduttivo tu? Sì, 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 esatto. Siamo pure l'avanti, fai delle cose, però no? No, no, una fase animale, sì. E' ancora bello, tu perché c'era il Fizz. Va beh, senti, alla fine è andato bene, cioè il campionato è bello, tu, sei con te, sei un bello ster rispetto all'anno scorso. No, beh, sicuro, sicuro, non so, credo che sono quello che ha fatto più punti di differenza tra quest'anno e tra il 2014 e il 2015. E' vero che con le statistiche nuove un modo di essere figo c'è sempre, cioè con quello che ha dato le basette più lunghe rispetto al Fizz. Io, per esempio, per esempio sono, quello che ha fatto la rimonta più grande in modo GP è andato sul podio andando sul podio in un giorno di sole con un'umidità comunque vabbè alla fine tutto tornato bello ho perso il nonno nel mondiale l'ultima gara con un pollo Spargaro che è comunque arrivato quinto io avevo quattro punti di vantaggio l'obiettivo secondo me deve essere quello di fare mediamente meglio in tutte le piste avere meno alti e bassi nel senso l'obiettivo è arrivare nella top ten l'anno prossimo con frequenza e finire il campionato un po' meglio di decimo comunque nei primi 10 l'anno prossimo però giocandosela per stare sempre nei 10 questa è la cosa diplomatica però detto fra noi vaffanculo anche due seri però un podio c'è a me che se ne frega tanto quest'anno si ho fatto il podio era me lo dicevano tutti perché dei gran premio 8 eh complotto eh tutto eh magari quanti gran premio 8 ci sono? al momento non lo sappiamo però c'era anche quello brame in Australia non è che sono andato fortissimo ma aspettavo infatti c'era magari magari il complotto magari c'era invece non era un complotto vabbè senti quando noi ci sentiamo ogni tanto ci twittiamo così mi dice tutte cose normali non segreti però quando tu sei pronto che queste le fanno anche da uomo queste fette qua me ne mandi una questa ha anche la forma delle tette si si è arrivato sono arrivato a darmi qualcosa da mettermi prima di che scenda in pubblico ok saluta perché questi ci angosciano saluta ciao